Ciao, siamo qui per invitarvi al prossimo webinar della Natural Point Academy dedicato a voi professionisti della salute. Oggi per questo webinar andremo a collaborare con la SILU, Società Italiana di Nutracetica, e abbiamo come relatore il professor Arrigo Cicero, con cui parleremo di prevenzione delle patologie cardiovascolari e daremo un update. Grazie mille e in realtà sarà un piacere condividere con voi alcuni temi relativamente nuovi rispetto alla prevenzione cardiovascolare, relativi per esempio alla ridefinizione di nuovi fattori di rischio, rispetto a quelli classici, rispetto a per esempio come è cambiata la tipologia di dieta che oggi sappiamo essere più salubre rispetto ai criteri canoni che abbiamo sempre suggerito finora, per finire con un dato importante che è quello del ruolo dell'integrazione nutrizionale che ancora oggi, nonostante l'avanzamento delle conoscenze rispetto allo stile di vita ottimale, non siamo ancora riusciti a assolutamente ridurre nella sua importanza. Quindi di questo parleremo assieme e speriamo che di attirare la vostra attenzione. Grazie mille professore, allora vi aspetto in diretta il 5 ottobre, dalle ore 20 alle 21 potete iscrivervi nel commento al video. Grazie e ci vediamo il 5 ottobre.